Vedendo che oggi noi inaugurando la metropolitana, più di immagini che ho portato, ma io vedo un'opera d'arte di un'opera di acqua. E proprio per questo dobbiamo accelerare tutte le opere, siccome diceva a filmare, da miglioratore di sito, tutte le opere che non prendono. Siccome c'è l'impegno di bondi che è venuto pochi giorni fa in Cipassino, in Cipassino, in Cipassino, in Cipassino, un troppo arrabbato, si è impegnato per solo a far sì a realizzare le opere sanno sospite. Io credo che queste opere servono soprattutto a un grande progetto della ZPL, delle aree peglionare che il sindaco intanto si è impegnato in questi giorni per l'America Scala. E questo è possibile realizzare solo se noi riusciamo a realizzare e aprire le altre portaglie, le altre opere sospite. Io spero che tra i presenti ci siano giornalisti stranieri e che vedano come stanno andando l'arte. Questa è la vostra puntata. Viva Daudi, viva Italia.